Una fotografia della rete distributiva che coglie l'andamento economico, abitudini e preferenze dei piemontesi, informazioni utili sulla collocazione degli impianti. Lo fornisce il punto, lo studio realizzato dalla regione Piemonte, presentato a Palazzo Lascaris, che svolge un'attenta mappatura e una approfondita analisi di tutte le aree di distribuzione del carburante sul territorio regionale.